Area 51 Crescita Personale Podcast. Le idee, gli autori e gli strumenti che ti guidano nel tuo percorso di evoluzione. Finalmente puoi ascoltare e avere sempre con te tutti i tuoi podcast preferiti di Area 51 Publishing. È arrivata la app di Area 51 Publishing. Scaricala subito. È gratis e senza alcun obbligo di impegno. Centinaia di contenuti audio gratuiti e un'intera web radio ti aspettano. La app di Area 51 Publishing è sia per dispositivi Apple che per dispositivi Android. Vai su App Store o Google Play e nella stringa di ricerca digita Area 51 Publishing. Scaricala subito e goditi la prima app interamente dedicata alla tua crescita personale. Ciao, sono Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind3. In questa puntata vorrei parlarti di Giuseppe Pontigia. Giuseppe Pontigia è un grande scrittore, è stato, si direbbe, un grande scrittore perché purtroppo ahimè ci ha lasciati da un po' di tempo, ma per me è un grande scrittore e soprattutto è un grande maestro di scrittura. Perché non solo è un artista, ma è un grande professionista del testo e riesce a tradurre la sua competenza tecnica, la sua chiarezza della comprensione del testo, e vedremo subito perché ho sottolineato la parola chiarezza, riesce a tradurre questa sua competenza tecnica in passione e a trasmettere questa passione. Ecco, io uso questo termine maestro in maniera sempre molto cauta, ma per me Pontigia ha proprio il carattere, il modello, ecco. Per me è il modello, rappresenta il modello di maestro. Non tanto per quell'immagine che abbiamo del maestro cinematografica o televisiva, il maestro che ti ispira, il maestro che ti capisce, il maestro che riesce a vedere sempre in te quello che c'è di meglio, quella scintilla di genialità. No, non è così, molto più realisticamente. Pontigia per me è un maestro perché incarna caratteristiche fondamentali di questa idea, di questo modello appunto. Innanzitutto l'umiltà, umiltà che in questo mondo, sempre più fondato sull'apparenza e, come direbbe lui, sull'euforica rappresentazione, ecco che l'umiltà, la capacità di essere legati alla terra, no? Umiltà da humus, farsi umile, sapersi sempre legare alla limitatezza, possiamo dire così, alla consapevolezza della propria limitatezza e della propria compresenza, dell'essere insieme agli altri e non superiori agli altri, di avere un ruolo, di rivestire un ruolo, ruolo acquisito grazie al proprio lavoro, al proprio sforzo, alla propria competenza, quindi di essere insieme, di condividere questo ruolo con gli altri, ma di condividerlo uno a uno, semmai, come si diceva in Grecia, un primus inter pares, cioè la consapevolezza del proprio valore, la consapevolezza della propria competenza e la consapevolezza anche delle proprie qualità creative, certamente differenti delle proprie peculiarità, nel suo caso penso soprattutto alla sua capacità straordinaria di incidere con una precisione da chirurgo, l'analisi e soprattutto il confronto con un testo, ma lo fa sempre con una grande umiltà che non significa falsa modestia, ma significa proprio il porsi in basso, il mettersi ogni volta, ecco perché dico mettersi in gioco, altra grandissima qualità, di un maestro secondo me e di Giuseppe Pontigia nello specifico, cioè di rimettersi sempre ogni volta in discussione, di riporsi di fronte a un testo con la stessa energia della prima volta, con il rischio di essere sconfitti dal testo, quindi di non presumere di saperne sempre di più del testo, mettersi in gioco e correre anche il rischio ogni volta di mettere in crisi le proprie convinzioni. Anzi questo mettere in crisi è il punto centrale del lavoro sia di scrittore, sia di critico, sia di insegnante, di maestro di scrittura di Pontigia. La terza caratteristica che ha del maestro secondo me è proprio quello che ho appena detto, cioè riuscire a trasmetterti la passione e questa capacità gli proviene proprio dal continuo confrontarsi con il testo, dal continuo mettersi in discussione e dal continuo sprigionare energia dinamica di confronto con il testo, gli autori, con i problemi, con i dubbi, con le incertezze e con tutte quelle che sono le incognite che ti pone lo scrivere un testo, l'interpretare un testo e più estesamente vivere la propria vita. Ed è qui il punto che mi interessa principalmente trasmetterti. Ne approfitto per parlare del maestro Pontigia, di uno dei miei maestri assoluti, complice l'uscita di un, approfittando dell'uscita di un testo, appunto, di un suo libro postumo che riguarda la scrittura. Sono diversi i libri usciti che raccolgono lezioni di Giuseppe Pontigia, che è stato, fra l'altro, uno, se non erro, dei primi insegnanti di scrittura creativa in Italia, o perlomeno uno dei primi professionisti dell'insegnamento della scrittura creativa. Questo libro uscito per Mondadori si chiama Per scrivere bene, imparate a nuotare, 37 lezioni di scrittura. Ecco, questo testo me ne ha fatto venire in mente un altro, uscito, se non ero, nel 2016, che è ancora più importante, dal mio punto di vista, e che per me è stato straordinariamente istruttivo. raccoglie una serie di puntate di un programma radiofonico che è andato in onda negli anni 90, nel 1994, tra maggio e giugno 1994, commissionato dall'allora direttore di Radio Rai, Aldo Grasso, stagione indimenticabile, peraltro per chi alla mia età forse se la ricorda, la stagione dei cosiddetti professori, quando ci fu il primo, se non erro, governo tecnico, o il primo famoso governo tecnico in Italia, il governo Ciampi, e in quel momento in cui il paese era istituzionalmente in crisi, dopo Mani Pulite, nella fase che poi traghettò alla seconda repubblica, diciamo, alla seconda istituzionalizzazione politica del nostro paese, ecco, ci fu questo momento che non si è mai più ripetuto, in cui sembrava davvero di essere completamente liberi, in particolare per quanto riguardò la riconfigurazione della Rai. Se non ricordo male, fu proprio affidato a Aldo Grasso, che è merito critico televisivo, esperto di storia dei media, fu affidato a Aldo Grasso la riconfigurazione, la ristrutturazione di Radio Rai, e fece davvero una cosa straordinaria. Quando poi la reistituzionalizzazione del paese riportò alla normalità la situazione, ecco che poi Radio Rai, come la Rai, fu nuovamente, diciamo, normalizzata, se posso usare questo termine, un po' forte. Ma in quel periodo, appunto, ci fu davvero un florilegio, un'esplosione di creatività, soprattutto in radio, l'ascoltavo, avevo 23 anni, quindi ricordo molto bene, ero già adulto, diciamo così, e ricordo molto bene il lavoro che fece Aldo Grasso, sia nella reinvenzione dell'informazione, fece, ricordo molto bene, il mondo in diretta, cioè trasformò Radio 1 in una sorta di canale all news, in anticipo almeno di, se non un decennio, almeno quasi un decennio, su quello che sarebbe poi avvenuto. E, grazie a la creatività e all'indipendenza, ecco che poterono emergere anche, poterono essere prodotti anche contenuti, diremmo oggi, in questo caso, un programma radiofonico così inaspettato e così straordinariamente illuminante, come appunto quello affidato a Giuseppe Pontigia, che si chiamava Dentro la Sera, e che aveva come sottotitolo Conversazioni sulla scrittura. Questo programma è stato rieditato in un libro, riproposto in un libro nel 2016 da Belleville Editore, un editore che produce libri, ma soprattutto propone corsi di scrittura creativa, e la fortuna di questo testo è che insieme al libro c'è anche l'audio, quindi un CD con tutte le puntate contenente tutte le puntate di Dentro la Sera. Prova a pensare quanto per me, editore di audio, possa essere stato entusiasmante sentire la voce diretta, impresa diretta del mio maestro che raccontava con la sua capacità ineguagliabile, con questa sua veramente energia battagliera, la sua passione e la capacità poi sua di trasmettere questa stessa passione come ha detto anche a noi. Te lo raccomando questo libro in particolare perché è veramente veramente unico questo libro e soprattutto questo audio. Ti propongo adesso in questa puntata alcuni estratti brevi di questa serie che mi servono per raccontarti, per argomentarti quelli che sono i quattro punti. Ecco, ho individuato quattro punti che per me sono davvero fondamentali e che ci portano qualcosa in più, qualcosa di più esteso rispetto all'analisi della scrittura, all'analisi testuale ma proprio utili per la nostra crescita personale e sono conversazione, problematizzazione, invenzione, chiarezza. Ecco, alla base c'è un altro punto che per me è centrale e che è stato Giuseppe Pontigia a farmi comprenderne quanto sia centrale ed è il rapporto tra leggere e scrivere. Giuseppe Pontigia infatti nelle sue lezioni più che insegnarci a scrivere ci insegna a leggere e non vorrei che venisse interpretato così come un luogo comune o come un vezzo perché la lettura è la base della scrittura e trasposto nel nostro mondo nel mondo della crescita personale non ti sembra che sia esattamente la stessa cosa per poter scrivere il nostro futuro per poter scrivere la realtà che vogliamo scrivere dobbiamo imparare a leggere la nostra vita dobbiamo imparare a leggere gli eventi della nostra vita dobbiamo imparare a leggere la realtà e la nostra collocazione nella realtà perciò per me leggere e scrivere hanno proprio questo rapporto dinamico che hanno il passato e il futuro il passato è la realtà che abbiamo vissuto finora e che forse non abbiamo mai letto nel modo giusto non ci siamo mai confrontati con essa arriverò subito al punto non abbiamo mai conversato con essa non abbiamo mai conversato con noi stessi col rapporto che abbiamo con la nostra realtà e se abbiamo conversato con noi stessi forse dobbiamo imparare a leggere meglio quello che la nostra vita ci ha scritto fino a questo punto quello che la nostra realtà la vita che abbiamo vissuto e l'ambiente in cui viviamo ci scrive e ci ha scritto solo così possiamo imparare a scrivere il nostro futuro a creare la nostra migliore realtà ecco perché ho chiamato la prima lezione più generale di Pontigia conversazione il primo punto fondamentale per la nostra crescita personale attraverso la maestria di Giuseppe Pontigia proprio perché la lezione non è mai una lezione ma è appunto una conversazione infatti mi ha un po' colpito che questo libro ultimo sia invece chiamato pubblicato da Mondadori 37 lezioni di scrittura lo capisco naturalmente dal punto di vista di marketing ci mancherebbe altro ma coglie però secondo me una inesattezza anzi mette in luce per meglio dire un'antitesi rispetto proprio a quello che Giuseppe Pontigia che dà il titolo o il sottotitolo per meglio dire al suo dentro la sera conversazioni sulla scrittura vuole intendere vi è una fondamentale differenza tra tenere una lezione e conversare è intuitivo tenere una lezione significa essere in cattedra dire delle cose che sono vere che sono attestate come verità e c'è un pubblico che le deve semplicemente acquisire conversare invece significa letteralmente cioè etimologicamente dal latino conversari significa trovarsi insieme con insieme con e versari cioè dimorare trovarsi Giuseppe Pontigia peraltro era un grande esperto e un grande amante dell'etimologia ma ancora non in quel senso nozionistico ma come spunto come innesco ecco come grilletto per la dinamica energetica delle parole per trovare poi nelle parole il loro senso più profondo ora vorrei aggiungere anche conoscendo il VAK cioè il visivo auditivo kinestesico che Giuseppe Pontigia era un kinestesico e caratteristica del kinestesico e lo sentirai anche quando quando parli in questi brevi passi che ora ti vado a proporre caratteristica del kinestesico è quella di cercare sempre la parola migliore no sempre di aggiungere cercare e trovare quel in più o quel meglio rispetto a quanto detto che possa ancora di più precisare quello che è il peso uso termini kinestesici la densità la pienezza di quanto si sta dicendo anch'io sono un kinestesico e anche se non ho la stessa maestria e non lo dico con falsa captazio benevolenza con ricerca della benevolenza anche perché diciamo che ormai me la può portare soltanto al di là nella terra dei poeti ma io non sono neanche un poeta quindi non ho proprio territorio in cui Giuseppe Pontigia potrebbe avere un biglietto di ingresso favorirmi un biglietto di ingresso lo dico proprio perché è la verità però anch'io preferisco sempre di più il mezzo della comunicazione orale e secondo me in questo Giuseppe Pontigia è stato un grande maestro ancora di più e forse anzi direi che il testo che alla fine era anche storicamente il contenitore lo strumento cioè il libro era il contenitore lo strumento consueto lo ha un po' limitato oggi se avessimo avuto le possibilità tecnologiche se avessi avuto Pontigia allora le possibilità tecnologiche di diffusione che abbiamo oggi avrebbe davvero spaccato il mondo nella sua capacità appunto deflagrante energetica di coinvolgere di appassionare dicevo semplicemente questo spunto autobiografico perché anch'io mi trovo con la stessa passione nella ricerca di fare di trovare sempre quella quel punto più chiaro più profondo ecco questo sforzo che andiamo proprio qui anche a puntualizzare conversazione però ecco conversazione rispetto a quello che abbiamo messo in luce in precedenza il maestro non è quello che ti fa cadere le cose dall'altro che ti che fa colare la sua scienza infusa su di te tu devi solo stare zitto e prendere quello che questo uomo che non è più un uomo ma sorge una sorta di stato semidivino ti degna di venire a conoscenza è ancora molto diffuso questo approccio quest'idea e anzi i media naturalmente la potenziano questa idea questo approccio un po' come dire iniziatico il sapere è qualcosa di segreto che viene così celato negli scrigni tramandati da pochi eletti i quali quando si degnano così quando ne hanno voglia gettano dai carri per il popolo il loro sapere frammenti del loro sapere a cui però il popolo non avrà mai accesso ecco se l'aggettivo populista oggi è usato in termine in senso denigratorio ecco che possiamo dire che Pontigia fosse un populista della interpretazione del testo non nel senso che favoriva o fomentava le più basse i più bassi appetiti del popolo assecondava i più bassi istinti ma al contrario perché ci fa capire che tutti tutti possiamo avere la conoscenza possiamo raggiungere realizzare la conoscenza attraverso proprio questa dinamica questa continua conversazione questo dialogo che però non è un dialogo direi socratico socratico nel senso di dialettico in fondo Socrate i dialoghi di Socrate sono dei falsi dialoghi perché Socrate sa già qual è la verità e manipola astutamente abilmente il dialogo affinché l'interlocutore venga messo in difficoltà venga messo in crisi ma non nel senso di una reciproca messa in crisi ma nel senso che Socrate sa qual è la direzione della verità attraverso il dialogo finge di conversare ma in realtà decostruisce abilmente quelli che sono i fondamenti delle certezze le certezze della verità dell'altro finché l'altro non ammette di stare sbagliando e riconosce quella che è la verità e si arriva perciò attraverso l'apparente dialogo ma il meccanismo dialettico si arriva al riconoscimento della verità non è così in Pontigia in Pontigia la conversazione è un vero e proprio dialogo mi viene in mente un altro filosofo Edgar Morin un filosofo tumultuoso un filosofo appassionato anche lui un filosofo materialista peraltro e materialista questo intendo non in senso denigratorio ma dico che ricerca nella stessa contestualità nella terra nell'essere terrestre ancora nell'humus nel terreno in cui tutti cresciamo materialmente come corpi come menti come cittadini come individui ricerca la migliore la migliore possibilità di espressione dell'individuo e dell'essere umano la migliore evoluzione la migliore crescita personale a tutti gli effetti ecco che 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 pontigia ci fa scoprire come questo dialogo questa conversazione sia il fondamento della creazione stessa come per noi ribadisco conversare con il nostro passato dialogare con il nostro presente significa confrontarsi con esso e qui sì certo mettersi in crisi ma nel senso che anche Socrate avrebbe dovuto mettersi in crisi mentre Socrate non si metteva mai in crisi perché Socrate dal punto di vista dei dialoghi socratici è un'astrazione per dirla ancora con più precisione noi invece ci mettiamo veramente in crisi pontigia si mette in crisi conversando con il testo noi ci mettiamo in crisi conversando con la nostra realtà questa è la differenza certo possiamo prendere le azioni dalla realtà conversando con essa leggendola ed entrando in un rapporto dinamico continuo di interrogazione sulla realtà su noi stessi certo che prendiamo lezioni dalla vita certo che prendiamo lezioni dal maestro pontigia ma non come l'oracolo che ti commina il suo sapere ma come il maestro che per primo fa da esempio e da qui il secondo concetto fondamentale per tutti noi cioè per la nostra crescita personale non soltanto per l'analisi di un testo per l'obiettivo di diventare scrittori quello della problematizzazione te lo faccio spiegare direttamente da giuseppe pontigia dalla prima conversazione di dentro la sera quando parla della differenza tra il suo modo di insegnare scrittura creativa e il modo di insegnare delle scuole americane qualche accenno sulle scuole di scrittura che esistono negli Stati Uniti che certe volte spesso vengono citate molte volte senza neanche conoscere bene tra l'altro come vengono condotte rispetto a quello che faccio io c'è una differenza radicale per quello che mi risulta nelle scuole di scrittura degli Stati Uniti vengono proposti modelli di scrittura vengono suggerite modalità da seguire se si vuole scrivere un determinato genere di romanzo per esempio un romanzo d'avventure un romanzo erotico un romanzo esotico un romanzo d'amore eccetera non è assolutamente quello che io intendo fare non voglio con questo fare delle critiche a queste scuole statunitense che a detta di coloro che le hanno frequentate tra questi se contano alcuni scrittori giovani di valore non trascurabile hanno rivelato una loro utilità perlomeno formativa però il taglio che io intendo dare alle grosse conversazioni è un taglio problematico ecco non normativo non è che voglia impore un modello di prosa da seguire un modello di stile da seguire ecco la distinzione secondo me geniale perlomeno estremamente illuminante per me tra normativo e problematico un approccio normativo è un approccio da lezione regola numero uno regola numero due regola numero tre regola numero quattro è un approccio nel quale anche noi come editori di crescita personale spesso non dico incappiamo perché non è un errore ma è un approccio che spesso utilizziamo per proporre delle schematizzazioni naturalmente per proporre delle sintesi per proporre degli ancoraggi che restino impressi noi lavoriamo su strumenti questi strumenti vanno usati affinché questi strumenti possano essere usati devono essere chiari e qui arrivo al punto poi anticipo diciamo così il punto quarto che per me è quello più importante e quindi usiamo anche un approccio normativo ma io credo che l'essenza del nostro lavoro e questi podcast questi audio i video che proponiamo ma anche i nostri programmi i nostri corsi stessi il lavoro che facciamo nei nostri contenuti sia orientato sull'insegnamento di Pontigia alla problematizzazione un approccio problematico che non significa un approccio che non ha risposte che non significa un approccio che ha solo domande ma significa un approccio appunto che dialoga che conversa che ti stimola a dialogare a conversare a mettere in discussione a lavorare continuamente su quello che hai raggiunto per analizzarlo e magari per rilanciarlo per analizzare gli errori fatti e per capire dei propri errori valutare realmente quello che si sta facendo valutare quello che si è fatto valutare anche i propri limiti valutare le proprie debolezze questo è un approccio problematico l'approccio normativo è quello che ti dà le regole di un comportamento che sono da lezioni da maestri tali o presunti direi più presunti che tali ti vengono vendute come se fossero appunto il decalogo i dieci comandamenti come se fossero appunto scolpite nelle tavole di quale legge non si sa e che ti vengono così sfornate come una pizza e tu devi accettarli accettare queste regole così acriticamente in maniera totalmente astratta e spesso sono inapplicabili o spesso sono inastratto sicuramente valide ma poi sul terreno della vita su ogni giorno perché su ogni giorno si fa la nostra vita su ogni giorno ogni giorno noi ci svegliamo e poi siamo veramente differenti il sonno ci ha davvero resettato spesso e bisogna ricominciare da capo e ogni giorno non dobbiamo ricominciare da capo no però ogni giorno dobbiamo ritrovarci e rilanciarci e quando abbiamo raggiunto degli obiettivi ecco questi obiettivi è vero che li abbiamo raggiunti ma la vita che è fatta sempre di andare avanti ci pone nuovi obiettivi ed ecco che allora la problematizzazione significa secondo me trasposta naturalmente nella vita quotidiana trasposta come strumento di crescita personale significa secondo me proprio questa capacità di essere presenti a se stessi capacità di comprendere chi si è dove si è e di problematizzare chi si è e dove si è sapere fin dove si può arrivare in quel momento agire per superare i limiti ma accettare anche quelle che sono le condizioni per esempio di quel momento di quel contesto senza pretendere che le astrazioni le frasi fatte o nel nostro settore le facilonerie che spesso vengono propinate senza accettarle o meglio senza acquisirle acriticamente questo ecco per me è il punto della problematizzazione che è fondamentale sia rispetto a quello che capita nella vita sia rispetto agli strumenti di crescita personale e spirituale che usiamo per il nostro miglioramento per il nostro avanzamento significa capire in che modo funzionano significa capire che tempo necessitano di elaborazione e significa anche capire come mai non stanno funzionando certamente aggiungo anche questo io so che funzionano lo so e non soltanto perché ci credo ma perché ne ho visti e ne vedo i risultati io penso che ci crederei ugualmente perché come ho avuto occasione di dire anche in altri contesti ti rimando in questo senso a dei video su youtube che ho proposto io penso che vivere in un mondo in un paradigma costruttivo di avanzamento sia assolutamente di gran lunga meglio che vivere in un paradigma pessimista e distruttivo anche se non funzionasse niente nessuno strumento della crescita personale funzionasse realmente ma funzionasse soltanto perché io credo che funzioni non importa va bene comunque alla fine quel che conta sono i risultati in un'ottica puramente pragmatica e ribadisco materialista senza scomodare per una volta la spiritualità funziona lo stesso meglio si vive meglio così io vivo meglio così da quando sono entrato in questo paradigma non tornerai indietro neanche se mi versassero i soldi di paperon dei paperoni ma lo problematizzo e voglio capire voglio conoscere voglio rispondere ai perché perché funziona perché non funziona perché è così e perché potrebbe essere diversamente così perché non è ancora così e dal perché il come e dal come il che cosa utilizzare in certi contesti in certi altri qui la conoscenza questo è il problematizzare è fondamentale il problematizzare e aggiungo anche il problematizzare ci porta veramente al comando della nostra esistenza perché possiamo ascoltare gli altri certamente le opinioni degli altri le valutazioni degli altri ma le problematizziamo le problematizziamo attenzione non significa che le rifiutiamo perché l'approccio normativo molto spesso in genere ha anche l'effetto opposto non soltanto l'accettazione acritica ma anche il rifiuto acritico ah no questa cosa qui riguarda la crescita spirituale ah sono i soliti ciarlatani i soliti cialtroni che vogliono venderti fumo ecco perché io parlo spesso dei lavori che facciamo degli strumenti che utilizziamo come rigorosamente non scientifici rivendico la non scientificità e ciò non significa né la ascientificità nella pseudoscientificità ma la non scientificità ma rivendico anche il rigorosamente il rigore del lavoro che facciamo però ecco che la problematizzazione io penso che mi aiuti anche in questo senso perché mi permette di pensare come pensano coloro che rifiutano completamente e di pensare anche come quelli che invece credono fortemente negli strumenti e nelle conoscenze spirituali e so anche che è vero che spesso ci sono come nel libero mercato come in ogni cosa che fa parte del libero mercato in cui io credo credo nel libero mercato un po' meno nel capitalismo ma credo nella libertà e quindi credo nella libera economia perché la libera economia nella sua essenza è l'espressione della libertà individuale è un'espressione creativa so anche che sul mercato ci può essere di tutto dalla truffa alla malafede a semplicemente la semplificazione la banalizzazione o anche all'ignoranza io qui non mi sto auto-eleggendo auto-dipingendo come invece l'illuminato ecco sto semplicemente dicendo che problematizzo è che siccome la spinta della mia energia la spinta della mia ricerca va verso queste cose spirituali io ho il dovere oltre che di seguire questa strada ho il dovere di cercare sempre meglio e sempre più profondamente la verità di questa strada ed è qui la problematizzazione ed è qui che ti invito a utilizzare la problematizzazione per affrontare le cose e ci vuole sforzo questo fa la differenza tra chi accetta criticamente tra chi rifiuta aprioristicamente e chi invece si mette in gioco questa è la differenza e non c'è differenza tra affrontare così la propria vita attraverso un problem solving diremmo oggi in un anglicismo che Pontigia detesterebbe probabilmente di un continuo risolvere problemi e di un continuo problematizzare le soluzioni che si sono trovate rispetto al problematizzare il confronto con un testo risotto 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 Area 51 Publishing è la casa editrice che propone il più ampio catalogo in lingua italiana di contenuti audio sulla crescita personale. Per questo tipo di contenuto il formato audio è ideale perché è flessibile, leggero, portabile e si adatta alle tue esigenze e ai tuoi tempi. Scarica subito gratis i contenuti audio esclusivi di crescita personale firmati Area 51 Publishing. Iscriviti alla nostra newsletter e sono subito tuoi. Vai su www.area51editore.com slash newsletter www.area51editore.com slash newsletter www.area51editore.com www.area51editore.com www.area51editore.com